Sono passati più di dieci anni dalla chiusura ordinata per la mancata messa in sicurezza e carenze del Teatro Comunale Vittorio Emanuele di Benevento. Dopo un complicato iter e delicati lavori di restauro, finalmente il Teatro Storico Cittadino può tornare alla comunità. Terminato il restauro, il Teatro Comunale questa mattina è stato al centro di un sopralluogo del provveditore interregionale alle opere pubbliche, Placido Migliorini e del sindaco Mastella, che ha annunciato la possibile data di riapertura. Vediamo se il 16 di settembre è confermata la data con il ministro Franceschini, perché qua si vota credo ottobre, per cui vediamo se lui è ancora disponibile a venire il 16, però noi l'inauguriamo lo stesso. L'inauguro credo che chiameremo a raccolto tutti i sindaci alla provincia di Benevento con fascia, perché il Teatro Comunale consola la cittadina e tutta la comunità della provincia di Benevento in particolare. Un restauro curato nei minimi dettagli e nei tempi stabiliti, anzi lavori terminati in anticipo, come ha rimarcato il provveditore Migliorini, che ha esaltato la bellezza della struttura. Devo dire che seppur un'opera piccolina, ma è una bomboniera nel suo piccolo, perché è un'armonia di spazi e anche di composizioni, se vogliamo, architettoniche. Questo è sicuramente un immobile di cui la città di Benevento aveva necessità. Insomma, usufruire di un teatro come questo è sicuramente un bene per tutta la collettività di Benevento. Grazie a tutti.